Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 6 km di coda con tendenza all'aumento per lavori tra Val di Chiana e Chiusi in direzione di Roma. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma verso Bologna tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 restano rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Il Bivio con la 1 verso Firenze. Fipilico di attratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandici. Siamo al traffico ferroviario per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito di investimento di persona tra Gavorrano e Scarlino. I treni sulla linea Grosseto-Pisa potranno subire ritardi fino a 120 minuti, modifiche o variazioni. La circolazione è sospesa con servizio di bus sostitutivo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.